buonasera amici di nova news 24 antonino spina al best al rischio squalifico ha fatto una gaffa terribile tradito da antonella fiordellissima vediamo cosa è successo la stylist rischierebbe la squalifica avrebbe rivelato cosa succede fuori dalla casa di cinecittà e questo non è consentito dal regolamento inizio anno l'ex finanzato si è assentato per qualche settimana nella casa per sottoposti a un intervento chirurgico ma una volta rientrato nel reality show avrebbe svelato ad alcuni concorrenti cosa accade fuori ormai è uscito la verità il regolamento del gfv prevede che chi esce poi rientra nella casa oppure a chi arriva in gioco iniziato non può rivelare cosa sta accadendo nel mondo reale questo è molto importante per le dinamiche che si hanno all'interno nella casa e antonino avrebbe violato il regolamento rivelando ad antonella fiordellissi proprio le preferenze del pubblico sui concorrenti in gara tradito è stata proprio l'ex schermitrice antonino mi ha già detto che nicole sarà la preferita al 100% anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po' di chi sono i preferiti e queste cose qui questa è un'affermazione veramente incredibile ha detto alla fiordellissi parlando con sarà altobello e questo ovviamente la fiordellissi lo ha detto all'alto bello ma sicuramente aveva parlato con antonino che li ha rivelato a microfono spento oppure quando i quelli del grande fratello ovviamente tutta la redazione non si è accorta di quello che stava succedendo già nelle scorse settimane però i concorrenti avevano sollevato dubbi e perplessità sul periodo di assenza di antonino nelle scorse settimane oriana con cui spin albese ha avuto un bellissimo flirt lo ha accusato di aver violato il regolamento utilizzando un cellulare durante il ricovero in ospedale insomma se ne sono dette tanto parlando anche con jael detona e nicole murgia la venezuelana ha detto lui non poteva vedere niente perché era fuori in ospedale non ha visto niente nessuna clip non c'era ricordo tutto ha ammesso di aver avuto il telefono lo sappiamo tutti che ha avuto il telefono quindi è uscita anche questa cosa del telefono se ve la ricordate amici di nuova news 24 riandatela a pescare nei nostri video ma intanto tutto quello che sta succedendo sembrerebbe aver alzato un polverone sembrerebbe molto a rischio antonino vedremo cosa decideranno dal grande fratello vippi intanto sappiamo sicuramente sicuramente che la verità sta emergendo insomma antonino anche se avesse usato il telefono a questo punto non avrebbe dovuto parlare con antonella delle dinamiche esterne e questo potrebbe fare arrabbiare ancora una volta alfonso signorini amici di nuova news 24 diteci cosa ne pensate intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nuova news 24 grazie a tutti